Un saluto a tutti gli amici di Le Fonti TV, ben ritrovati ancora una volta qui in diretta da Palazzo Mezzanotte e in corso il convegno Financial Forum. Sono in compagnia del dottor Bossi che ringrazio per la sua presenza e disponibilità qui. Dunque si è parlato nel corso del convegno Financial Forum di digitalizzazione dei processi in ambito finance. Volevo chiederle come avviene la digitalizzazione di questi processi nell'ambito delle aziende. Il ruolo di Talenzia Software è quello di fornire tecnologie e software per la digitalizzazione delle aree finance nei processi di budgeting, planning e bilancio consolidato. Le aziende, principalmente i gruppi costituiti quindi da una moltitudine di società o le aziende con molte aree di business hanno l'esigenza di strutturare e organizzare i loro processi. In che modo? Con una reportistica sempre più evoluta, dashboard, BI, con sistemi condivisi e cloud, quindi un accesso possibile da qualsiasi parte del mondo. Ma non solo questo, avere strumenti che permettono di gestire regole specifiche per i processi di budget, di pianificazione, di bilancio consolidato, avere uno strumento multilingua e avere strumenti che permettono la gestione di un workflow dove ogni task è ben preciso. Quindi è importante per le aziende nel processo di digitalizzazione, è quello che richiede il mercato, è di avere un sistema che permette di strutturare e organizzare processi di reporting, budgeting e planning. Come supportate le aziende, le società che si stanno aprendo, che si aprono verso questi processi di digitalizzazione e in cosa vi differenziate dai vostri competitors? Sicuramente la nostra expertise. Abbiamo una specializzazione forte, verticale su questo mondo, su questi applicativi, un'esperienza più che ventennale che accompagna le aziende. Nella digitalizzazione la cosa che noi troviamo è che andiamo a sostituire Excel, questi enormi fogli Excel che sono cresciuti sopra gli ERP. Le aziende, le aree finance hanno creato come dei mostri Excel e il nostro obiettivo è quello di strutturare i processi di budgeting e reporting consolidato di queste aziende. Noi ci posizioniamo su aziende che hanno un fatturato superiore ai 100 milioni, aziende nell'area sia industriale, manufatturiera, servizi e bancario. Per noi è veramente importante la customer satisfaction. Il Mittalensia è un gruppo, una community di clienti dove si incontrano periodicamente, si confrontano e nell'ultimo Mittalensia sono stati portati progetti best of breed per noi, best of breed per noi, progetti che come 3NEW che aveva l'esigenza di digitalizzare tutto il processo di disclosure management, azienda che è presente con tantissime società nel settore energetico, elettroinvestimenti, altra azienda che è presente sempre nel settore energetico, già avviato un processo di bilancio consolidato, facendo grossi e importanti investimenti e aveva bisogno di digitalizzare tutto il processo di pianificazione finanziaria. E infine, altro caso che è stato portato è Casillo, azienda che fattura 2 miliardi, leader nel settore alimentare, che ha strutturato tutto un processo di budget coinvolgendo nel workflow tutti gli attori importanti nel processo di budget. Quindi, conclusione, per noi è importante digitalizzare nell'area Faneas i processi che sono a cappello dei sistemi RP e quindi guidare le aziende in questa organizzazione e strutturazione. Ringrazio il dottor Bossi, Managing Director di Talenzia Software. Io vi restituisco la linea a voi studio.